Presentata lo scorso novembre, proseguono i lavori di sostituzione delle lampade di illuminazione pubblica nella città di Fano, con l'intento di ridurre gli sprechi sia in inquinamento che nei costi. Il progetto, dal titolo Fano Full LED, ha proprio l'obiettivo di mitigare verso la tecnologia LED tutti i 13.815 corpi illuminanti che ad oggi sono alimentati a sodio ad alta pressione e ioduri metallici e suddivisi in 236 quadri elettrici. All'interno di questo numero già più di 3.000 punti luce sono stati riqualificati in questi anni ed ora andremo a dotare i 9.200 punti luce a trasformarli diciamo in energia LED e quindi a migliorarne l'efficienza, la sicurezza ma anche a migliorare il consumo di circa il 43 per cento rispetto a quello che abbiamo speso sino ad ora. In attesa delle due gare che si stanno completando noi siamo già partiti con il materiale che avevamo in casa con la sostituzione di quelli che sono i corpi del centro storico e poi procederemo con le torri degli interquartieri, quelle di via Campanella, via Tognolo, piazza Bambini del Mondo, parte del villaggio dell'amicizia Bellocchi, via Fadi Bruno, dal parcheggio di via Roma e via delle Abbazia, nel parco di via della Tombaccia, via Reno a Carrara, del parco di Coppi a Fenile e parte di via Le Cairoli. Tutto questo accadrà entro a luglio 2023, dopodiché ci fermeremo sul mese d'agosto per le ferie estive e a settembre si parterà con il relamping dei punti luce mancanti. Un'operazione resa possibile grazie alla collaborazione con ASET SPA che da alcuni anni gestisce gli impianti di illuminazione della città attraverso un ufficio specializzato e un energy manager. Il risparmio su base anno l'abbiamo calcolato di circa 5.000 megawatt praticamente di risparmio. Naturalmente quest'anno non può essere considerato per intero perché stiamo montando le apparecchiature durante l'anno quindi non ci sarà totalmente quel risparmio. Però è molto importante perché già una gara alcuni acquisti sono già stati fatti al di fuori della gara per quello che era possibile e che ce lo concedeva la normativa. L'altra scade ai primi di maggio quindi poi ci sarà tutta la possibilità entro settembre di poter provvedere al montaggio di questi 9.000 punti luce. Nella maggior parte dei casi verranno sostituite le semplici lampade di incandescenza con quelle a led mentre dove sarà necessario verranno installati nuovi lampioni tra le caratteristiche il telecontrollo. Il telecontrollo ci permetterà infatti di poter calibrare, controllare, verificare quella che è la risorsa luminosa, poter monitorare meglio dal punto di vista funzionale, dal punto di vista della sicurezza. È una grandissima occasione per gestire la luminosità e l'illuminazione di tutti quelli che sono i nostri spazi pubblici e quindi per poter attuare anche delle strategie inerenti a questa risorsa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.